La sessione precedente, nel frattempo vi faccio notare anche che nelle carpette avete i dati sui dati delle sorveglianze sull'attività fisica in Emilia Romagna che sono ovviamente suddivisi per genere, quindi abbiamo i dati sui maschi e sulle femmine. Si vede bene come ci siano delle differenze di genere, soprattutto tra bambini e bambine per quanto riguarda l'attività sportiva, ma si vede anche come man mano che si passa a valutare non l'attività sportiva ma uno stile di vita attivo, quindi considerando tutte le attività della vita quotidiane, queste differenze si riducano notevolmente fino ad essere probabilmente non significative da un punto di vista statistico. Quindi ci sono questi dati che sono degli ulteriori spunti di riflessione sugli argomenti dell'attività fisica sportiva di genere. delle domande? adesso iniziamo allora l'ultima sessione di questo mercuriale che è dedicata alle capacità funzionali degli anziani e delle persone fragili, in questo modo andiamo a completare tutto quanto l'arco della vita come avevamo detto all'inizio. Anche questa sessione si caratterizza come le altre per essere intersettoriale, ricordiamo che lo spirito del mercuriale è quello di mettere in comunicazione i due mondi, quello della medicina dello sport e quello della sanità pubblica e vedremo come anche in questa sessione ci sia un ampio ventaglio di formazioni e di categorie professionali che ci parleranno di questo tema. Anche in questa sessione avremo uno sguardo più vicino alla medicina dello sport che parlerà degli effetti biologici, dei bisogni di salute connessi all'attività fisica di anziani e poi quali sono le strategie per far sì che l'attività fisica effettivamente venga fatta e sia a disposizione di queste persone. Quindi do il benvenuto e invito ad accomodarsi al relatore Marco Neri, che è direttore della scuola di specializzazione in geriatria di Modena, che si occupa nella sua attività di ricerca dei fattori biologici associati all'invecchiamento e alla valutazione clinica e psicometrica riferita al soggetto anziano e che ci parlerà dei bisogni di salute connessi all'attività fisica di anziani, le persone fragili e delle loro patologie emergenti. Grazie. Grazie a lei. Buon pomeriggio. Il mio intento nel stendere questa relazione è stato quello di tenermi strettamente legato alle parole chiave che caratterizzano il titolo che mi è stato assegnato. Perciò salute, bisogni percepiti, anziano ovviamente, fragilità e l'attività fisica. Si può dire che lo stato di salute dell'anziano, per usare uno simbolo, è caratterizzato dalla malattia. Se noi guardiamo i dati dello studio Italian Longitude on Aging, della seconda metà degli anni Ottanta, questo studio ha certificato che in Italia, come in molti altri paesi cosiddetti le ultime decadi di vita sono caratterizzate dalla presenza di una o più oltre tre malattie diagnosticate. Le persone che non hanno malattie diagnosticate sono a minoranza, 10%, perciò è normale essere malati a una certa età. Questa condizione è alla base, non è l'unica, ma è una condizione che probabilmente favorisce una sorta di distorsione nella percezione della vita dell'anziano, che è presente nell'anziano stesso, ma anche nei familiari e anche nei medici, che con una banale traduzione dell'inglese ageismo, noi abbiamo battezzato ageismo, che vuol dire attribuire all'età anagrafica una serie, anche complesse, di segni e sintomi che sono in realtà attribuibili a malattie età correlate. Al di là dell'aspetto puramente nominale, l'ageismo porta a delle conseguenze rilevanti, secondo me, dal punto di vista funzionale e dal punto di vista dello stato di salute, perché è un fattore che determina o favorisce un nichilismo sia in ordine alla possibile diagnosi precoce di malattie, sia in relazione alle attività di cura e alla aderenza alla terapia. In realtà, se noi dobbiamo parlare di stato di salute, dovremmo riferirci, secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non solo alla diagnosi, diciamo, o gli aspetti biologici, ma soprattutto anche al profilo sintomatologico che nelle persone anziane è caratterizzato da non essere caratteristico, è diverso da quello che compare tipicamente nell'adulto e dalla disabilità, intesa come ridotta, progressivamente ridotta capacità di far fronte alla richiesta della vita quotidiana. Quali sono i bisogni della salute percepiti e dichiarati di una persona anziana? Voi potete assaggiarli con dei questionari come questo, validato anche per l'Italia, oppure con dei colloqui e vi troverete sostanzialmente che le richieste sono concentrate non tanto sulla malattia, il fatto di sapere di essere ipertesi non porta a sentirsi malati o chiedere di essere guariti da questa malattia, quanto di essere il più possibile esentati dai sintomi e esentati dalla disabilità. Sono i due pilastri su cui si poggia la richiesta di salute delle anziane, ma sono anche i pilastri su cui si poggia la possibilità di un rapporto dialettico con il medico o qualunque altro operatore e che condiziona in maniera sostanziale l'aderenza e la comunicazione fra queste due persone o queste due entità. Un'altra caratteristica delle persone anziane è la variabilità. Le persone anziane sono molto diverse l'una dall'altra e qua voi vedete tutte e due queste persone sono comorbide, hanno delle malattie anche non trascurabili, però le loro capacità funzionali e la loro sintomatologia è sostanzialmente diversa e noi dovremmo cercare di agire su questo piano, perciò l'attività fisica per quanto riguarda l'anziano non dovrebbe essere mirata esclusivamente o prevalentemente all'azione di prevenzione primaria, anche se è importante, quanto alla prevenzione secondaria, cioè evitare gli aggravamenti e le complicanze potenziali addirittura e a una cura e cura intendo prendersi cura di questa persona, non curare, detto grossolanamente in inglese to care and not to cure, cioè non limitarsi a dare una pastiglietta o qualche cosa del genere. Come vedete il rapporto fra malattia e disabilità è molto separato, per cui c'è un ampio spazio di azione nel compensare lo stato di malattia ed è lì che noi dobbiamo agire. La prevenzione primaria non è trascurare, ovviamente non sto dicendo che questo non è importante, è interessante anche se un po' americano questo dato che fa delle previsioni o proiezioni, dice se noi mettiamo insieme tutti questi elementi di rischio e li riduciamo del 10 o del 25%, una riduzione del 25% farebbe risparmiare, visto che si parla anche di questo, la comparsa clinica di demenza nel corso di un anno. Per cui è credo stimolante vedere come l'attività fisica o l'abolizione o la riduzione della inattività fisica del 25% è un pilastro, è una componente molto rilevante di questa barra di riduzione delle manifestazioni cliniche di demenza. Ma anche nel corso di malattie, questi sono lavori fatti nel gruppo di Stoccolma, anche in presenza di malattie già presenti, l'attività fisica, mentale, lo stile di vita, la dieta e anche le medicine, possono contribuire a proteggere, perciò a svolgere attività di tipo prevenzione secondaria e tendenziale molto efficienti. Perché l'attività fisica o l'esercizio fisico è importante? Voi lo sapete meglio di me, io che vorrei solo sonteggiare così, promuove tutte le attività che mantengono lo stato di salute dei vari organi ed apparati e inibisce una serie di fattori dall'ipercortisolemia all'infiammazione cronica, all'aumento dell'ossidazione che al contrario portano a danneggiare i grandi sistemi omeostatici, cervello, ormoni, sistema cardiovascolare e così via. Non entro in questo tema perché il punto essenziale è che è una specie di matrice che diffonde le sue possibilità di cura su molti sistemi perché va a toccare dei modelli o delle attività sostanzialmente di base del nostro organismo. Attività fisica in geriatria è ovvio che non è auspicabile anche l'attività di fitness, cioè di allenamento, ma sarebbe ed è molto importante prima di tutto che ci sia un'attività motoria quotidiana e degli esercizi di una certa regolarità. L'altro termine che era presente nel titolo era fragilità. Questa è una definizione, una delle possibili definizioni, sottolineo che è una sindrome biologica e abbiamo visto un attimo fa che l'attività fisica agisce sostanzialmente su dei meccanismi biologici di base. C'è una sindrome biologica di ridotta resistenza agli eventi stressanti che deriva da un declino simultaneo di diversi apparati che determinano l'aumento della disabilità, che era uno dei pilastri del nostro obiettivo di cura. Perché la fragilità è importante in relazione all'attività fisica? È quasi intuitivo perché l'attività fisica fa parte di un mosaico di eventi che se positivi portano a ridurre la fragilità. Se negativi portano a accentuarla o a renderla più probabile. Perciò fragilità e attività fisica hanno una strettissima connessione sul piano biologico, anche di altri tipi, ma possiamo anche solimitarci a questo. Tant'è vero che quando si parla di prevenzione della fragilità, questo titolo come vedete è anti-ageistico per definizione, non è una conseguenza inevitabile dell'età anagrafica, dell'accumulo degli anni, ma la fragilità ha una sua indipendenza dal dato puramente anagrafico. Quali sono le cose che si possono fare per evitare la fragilità? Esercizio fisico, nutrizione, ridurre l'infiammazione cronica, poche cose elementari, nel senso come quando si fa uno sport ci sono degli elementi di base, intanto bisogna conoscere quelli, poi dopo si fa il resto. Per cui i trabocchetti in cui noi non dobbiamo cadere sono nell'avere un atteggiamento ageistico, tanto a quell'età cosa vuoi che sia, è colpa dell'età, cosa vuoi farci, ma si è l'età. Due, le conseguenze di questo, l'estensione di questa distorsione che portano a far sì che, ma stai schieto, stai fermo, non correre rischi, ma se poi cadi, ma fai così, te lo porto il peso, oppure facciamo non guidare, ma cosa vuoi andare a fare e così via. Fino all'allettamento, questa è una condizione estremamente diffusa, un anziano che va in ospedale, ma anche a casa, se ha un po' di febbre, sdraiato a letto, o in diretto mette zache e guai se ti muovi, che è una condizione terribilmente negativa per una serie di funzioni. Io ho parlato di, andrò molto di corso qua, di orientamenti in attività fisica, perché se è vero, come è vero che le persone anziane sono molto diverse fra di loro, le linee guida definite da varie organizzazioni internazionali non sono facilmente applicabili nel singola persona anziana. Per cui, diciamo, orientativamente ci sono delle cose che si possono fare, ma devono essere, ma l'ho sentito dire anche oggi per le donne in gravidanza, personalizzate, ritagliate sulla persona. Per cui, io vorrei fare questa distinzione, due tipi di attività fisica, sul soggetto sano, quella piccola minoranza, o sul soggetto che ha solo la patologia con scarsa disabilità, che ha un'attività di prevenzione primaria, abbiamo visto, o secondaria, con delle attività, lo sento parlare anche oggi, 75 minuti, quotidiani, odori, eccetera, che devono essere valutate prima da esperti. Il cammino è una specie di elemento, linea rossa o filo rosso, che collega tutte le attività che noi possiamo immaginare per queste persone. Sottolineo che il cammino o qualunque attività fisica porta anche a due aspetti di cui abbiamo visto essere importanti. Il piacere, e vi ricordo che i muscoli sono forti produttori di endorfine, ma porta anche al fatto di essere a contatto con altre persone, non chiusi in un bozzolo, più o meno produttore di seta. L'altro tipo di attività è per le persone già ammalate, anche con forme importanti in malattia. Detto con una frase un po' assiomatica, non esistono in realtà che una piccolissima quota di limitazioni a fare un'attività fisica alla persona anziana, anche se gravemente malata. È importante l'altra cosa che… è importante come dicevo che l'attività fisica non produce effetti solo dal punto di vista biologico, sui muscoli, sulla circolazione e altro, ma produce effetti anche se non programmati, dimostrati, misurabili sul tono dell'umore e sulle attività di socializzazione. Dato che, ho già detto ed è dimostrato dal gruppo della Fratiglione di Stoccolma, che le attività intellettive e socializzanti hanno un'azione di prevenzione primaria sul manifestarsi di demenza per usare una malattia che ogni tanto va di moda a citare, si capisce subito come l'attività fisica possa essere importante. Ma è importante anche in relazione alle attività di stimolazione cognitiva. La Regione Emilia Romagna ha pubblicato i primi cinque anni di esperienze del progetto demenza e da lì sono fiorite, diciamo così, esperienze che mettono insieme attività fisica e attività motorie. Voglio citare questo, per tirare l'acqua al mio molino, perché è stato dimostrato che l'attività, abbiamo detto, modifica il tono dell'umore. È stato progettato, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, assieme alle Università di Bologna, Modena, Reggio e Parma, uno studio chiamato SIDS, che si poneva questo obiettivo. Se io tratto una persona anziana con il tradizionale trattamento farmacologico, che è questo, e associo nei due bracci, e questo è il gruppo di controllo, associo nei due bracci un trattamento di esercizio fisico, e in particolare mi chiedo quanto pesa l'attività socializzante e quanto pesa l'attività allenante, perciò due tipi di attività fisica, se applico questo modello, che cosa posso vedere? Che il previsto, atteso, desiderato effetto positivo dell'associazione dell'attività fisica a quella solo farmacologica è presente per tutte e due le attività programmate. L'attività allenante determina dei risultati precoci e un po' più rilevanti, non continuamente o significativamente presenti. L'altra cosa, e qua stiamo parlando di sintomi, vi ricordo che l'altro obiettivo era la disabilità. Vediamo un'altra cosa, che l'attività allenante ha il maggior peso positivo sulla disabilità, mentre farmaco e attività socializzante ne hanno di meno. Al di là di questo aspetto che un disbaio è allora, allora vuol dire questo, che cominciamo a tratteggiare delle differenze, delle possibili differenze, nei progetti o nei programmi o nelle cure che noi possiamo proporre a queste persone. Ci interessa più un aspetto, la disabilità o la sintomatologia, abbiamo tempo per fare certe cose, abbiamo gli strumenti per fare questo, abbiamo le competenze. Allora, la risposta comincia a essere variegata, differenziata, perciò più aderente alla richiesta. Vi dicevo che questa sensibilità in attività comincia a dare dei frutti. La regione Emilia Romagna, per esempio, nel disegnare i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture di geriatria, ha segnalato che le caratteristiche architettoniche peculiari da ritenersi indispensabili sono disponibilità di spazi dedicati a attività di socializzazione e spazi dedicate a attività riabilitative e di riattivazione motorica. L'attività motoria generale per gli anziani ha una lunga esperienza moda e via via si è sviluppata, questo è un report del 2006, e come vedete, credetemi sulla parola, dai primi attività relativamente semplici, non dico monote, ma legate a poche possibilità, si era aperta a molte disponibilità e possibilità. Perciò l'attività motoria per gli anziani ha cominciato o ha aperto una strada verso quelle esperienze che poi si sono concretizzate nelle reti città sane e in quel lato che avevo detto, che ho visto essere presente anche a Bologna, con i gruppi della psicologia dell'envecchiamento e altri, di associazione attività motoria e attività cognitiva. non parlo dell'attività fisica adattata, dove il modello è diverso, qua non parliamo di una specifica patologia, quella adattata vuol dire che questo individuo ha il Parkinson, gli esili di uniplegia, farà un'attività fisica adattata alle sue condizioni. Comunque non ci sono ostacoli a fare questo. Concludo con le ultime diapositive e mi permetto di segnalarvi questa che non è citata nel titolo. Come fare per far sì che queste attività perdurino nel tempo, motivare e fare queste attività. Qua cito due lavori. Il primo è che Older People Exercise Intervention in Residential and Nursing Accommodation che trova dei risultati insoddisfacenti. L'altra invece è Home Based Exercise che trova risultati soddisfacenti. Cosa può essere che fa la distinzione? Non la natura dell'esercizio. Secondo me, è una proposta di lettura, è il caregiver. Cioè, in geriatria noi ci bisogna sempre di un menage a trois. Non fatevi delle illusioni. Non sto pensando cose strane. C'è il paziente, il medico e un familiare. O se non il familiare, la capossale. Cioè, un caregiver informale. Se questo caregiver informale non si sente competenze, non ha motivato a fare le cose, probabilmente sarà non tanto terapeuta quanto patogeno. e noi lo abbiamo, per questo sono stati programmati questi interventi, per esempio, di terapia occupazionale al domicilio, per cui c'è l'intervento del terapista occupazionale, ma l'apprendimento da parte dei familiari di che cosa fare al domicilio, dove si combinano le attività di tipo cognitivo e motorio. E i risultati sono che il senso di competenza, rispetto a un gruppo di controllo, il senso di competenza dei familiari, a distanza di qualche mese, una volta esaurito, è sensibilmente, come se vedete, statisticamente molto aumentato, e sono diminuiti sensibilmente i sintomi del paziente. Per cui agire su questa che noi chiamiamo diade, paziente-parente, probabilmente porta ancora maggiori risultati di quanto non sia agire sulla singola persona. Vi ringrazio per l'attenzione. Il professor Trippi ci ha sostanzialmente proposto questa visione, movimento terapia e prevenzione. Neri. Questo concetto negli anziani non è un concetto presente nella società. Io sono un medico di medicina generale, proporre dell'attività fisica, il più delle volte, trovi una resistenza. E la difficoltà proprio è quella di far passare questo concetto. Questa possibilità, come intervenire, quali strategie di intervento, come motivare, ci verranno proposti dal professor Luca Pierantoni dell'Università di Psicologia di Bologna. Bene. Grazie, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Il mio intervento è sulle strategie di promozione dell'attività fisica nella popolazione anziana e fondamentalmente si articola in quattro punti. Vorrei cercare di rispondere alla domanda chi sono gli anziani più attivi e chi sono gli anziani più sedentari, secondo la letteratura, quali sono gli interventi più efficaci per promuovere l'attività fisica negli anziani e poi vi vorrei presentare gli esiti di un progetto europeo che ha seguito come Università di Bologna proprio sulle buone pratiche per la promozione dell'attività fisica nella popolazione anziana. In particolar modo questo progetto ha avuto l'esito di due prodotti, il primo rivolto ai policymaker che era un prodotto in cui venivano raccolte e analizzate le buone pratiche a livello europeo sulla promozione dell'attività fisica negli anziani e il secondo invece è un leaflet, una brochure motivazionale rivolta proprio alle persone sopra i 60 anni. Vorrei partire dall'indagine passi che tutti conosciamo e partire proprio da questo dato che è appunto self-evident più invecchiamo più diventiamo sedentari. Non ho incrociato questi dati con i dati di passi d'argento perché le classificazioni sono un po' diverse però è indiscutibile appunto che all'aumentare dell'età aumenta il livello di sedentarietà. Stamattina si parlava di differenze di genere questo gap di genere a favore della sedentarietà più frequente nelle donne rispetto agli uomini viene mantenuta in effetti in tutto l'arco di vita. La domanda quindi che ci poniamo è nella fascia over 60, over 65 chi sono gli anziani più attivi? Quali sono i fattori personali e socioambientali che possono incoraggiare l'attività fisica o invece scoraggiarla? Ora io vorrei partire da una prospettiva che è la prospettiva che più mi caratterizza che è quella appunto del psicologo sociale in cui il comportamento viene analizzato attraverso due fattori principali l'aspetto personale e l'aspetto socioambientale. Quindi vi presento due meta-analisi una review sistematica e una meta-analisi in cui sono stati proprio analizzati le determinanti dell'attività fisica nella popolazione anziana in questo caso è una popolazione anziana sana e le determinanti invece socioambientali perché non possiamo parlare solo di fattori personali o solo di fattori socioambientali. In base a questa review sistematica ci sono quattro fattori che sono associati all'attività fisica nella popolazione anziana vedete due che correlano positivamente con l'attività fisica quindi il funzionamento fisico generale e l'auto-efficacia e due invece che correlano negativamente con l'attività fisica. Eventi maggiori di vita come ad esempio le perdite o dei cambiamenti che ci possono essere nella vita di una persona anziana in generale scoraggiano il mantenimento o l'adesione ad un programma di attività fisica e anche il BMI appunto è associato negativamente all'attività fisica. Peraltro sappiamo dalle ultime meta-analisi che la relazione tra BMI e attività fisica è nella direzione in cui il BMI influenza l'attività fisica e non viceversa. Per quando invece andiamo a vedere i fattori socioambientali questa è una bella review pubblicata su una rivista un po' particolare che si chiama Health & Place che proprio colloca la salute nel luogo nel contesto territoriale ed è proprio una review che analizza la relazione tra ambiente fisico e attività fisica nella popolazione anziana e mette in evidenza come ci sono delle specificità ora noi sappiamo che se abbiamo più possibilità di un luogo sicuro in cui camminare le persone in generale hanno più probabilità di ad esempio fare attività fisica ma appunto nella popolazione anziana alcuni di questi fattori come l'accesso a facilities di tipo ricreazionale piuttosto che la possibilità appunto di camminare ma anche la sicurezza rappresentano appunto dei fattori socioambientali rilevanti soprattutto non solo la sicurezza in termini appunto di crimine ma anche ad esempio in termini di traffico la paura che un anziano può avere nell'attraversare la strada e nel non temere di essere investito appunto se va a farsi una passeggiata o una camminata quali sono gli interventi più efficaci per promuovere l'attività fisica negli anziani qui mi riallaccio peraltro appunto a una delle delle note delle ricerche anche menzionate dal mio relatore precedente in quanto proprio la Cochrane mette in evidenza come i programmi di attività fisica rivolte alla popolazione anziana possono essere svolti appunto in casa home based oppure center based e entrambi hanno un livello silver di evidenza in base alla Cochrane review e quindi entrambi possono essere appunto efficaci nel migliorare la salute e la funzione fisica delle persone anziane ma come appunto diceva il mio precedente relatore ci sono proprio degli studi che mostrano come l'aderenza nei programmi home based sarebbe più elevata proprio probabilmente anche perché viene mobilitata una rete sociale o il caregiver mentre invece le persone con malattia cardiovascolare o rischio cardiovascolare mostrano invece un maggiore miglioramento nel fare un programma di attività fisica presso appunto un centro nel medio termine ma la meta analisi che mi ha particolarmente colpito è questa dove invece vengono considerati degli elementi che a mio avviso sono estremamente importanti in cui si mette in evidenza come gli interventi più efficaci per promuovere l'attività fisica nelle persone anziane appunto siano quelli che sono articolati attraverso appunto una dimensione relazionale e sociale importante quella che appunto in cui i programmi vengono svolti in gruppo e in cui viene prevista un intenso contatto come vedete lì tra chi fa l'intervento e i partecipanti e si adattano appunto ai vari gruppi di persone che potrebbero avere appunto malattie croniche o disabilità quindi vedete c'è un'enfasi sull'aspetto relazionale e sociale che sicuramente è specifico di persone anziane che potrebbero appunto avere dei cambiamenti nella rete sociale minor supporto sociale un maggiore rischio di isolamento sociale in particolar modo nella letteratura stanno arrivando una serie di studi sul cosiddetto peer led program noi abbiamo sentito parlare di educazione tra pari spesso negli adolescenti ma ci sono appunto anche dei progetti pilota molto interessanti che si basano sul peer, sul pari e che appunto il pari rappresenta una fonte importante di mantenimento dei programmi di attività fisica tra gli anziani qui vedete un randomized control trial in cui vedete al base l'attività fisica era bassa alla fine dell'intervento aumenta solo nel braccio in cui il programma era guidato da un pari c'è un mantenimento dell'attività fisica al follow up a 18 mesi vorrei appunto presentarvi il progetto che ho personalmente seguito che è un progetto appunto finanziato dalla commissione europea Fit for Life in cui avevamo proprio l'obiettivo di raccogliere le buone pratiche di programmi fondamentalmente community based quindi c'era un'attenzione a dei programmi che erano rivolti alla comunità noi eravamo i partner scientifici e la maggioranza del consorzio era composto da enti locali soprattutto amministrazioni Stoccarda, Limoges, Rotterdam, Varsavia ed Estremadura raccolte una serie di buone pratiche che qui semplicemente vi menziono c'è un progetto molto interessante appunto svolto dal comune di Stoccarda in cui gli anziani vengono nelle farmacie i farmacisti segnalano appunto dei programmi di bassa soglia che partono proprio dalle farmacie come appunto sessioni di Nordic Walking o camminate appunto in cui il ritrovo la farmacia quindi programmi a bassa soglia o visite di attivazione appunto fatte dal comune di Rotterdam in cui delle persone vanno a casa di una persona che può avere appunto disabilità per dei programmi sia di stimolazione cognitiva che di esercizio fisico a Bologna appunto è stato presentato il progetto Park in Movimento il progetto Badabene che appunto anche in questo caso combina stimolazione cognitiva ed esercizio fisico svolto outdoor e Estremadura hanno un programma molto di prescrizione dell'esercizio fisico particolarmente elaborato in cui vengono coinvolti laureati in scienze motorie e vari professionisti Tutti questi materiali sono confluiti appunto in un handbook che ha raccolto le buone pratiche a livello europeo è fondamentalmente rivolto agli amministratori pubblici ma la cosa interessante è che abbiamo cercato di fare lo sforzo di sviluppare una griglia di valutazione attraverso una checklist sono 20 domande in cui ogni persona ogni amministratore ogni policymaker che svolge un programma di attività fisica rivolto agli anziani può cercare di legare in qualche momento il programma è stato poi svolto un pilot project in Italia in cui sono stati coinvolti una serie di stakeholder soprattutto dell'area bolognese come appunto associazioni la USL la WISP centri anziani sindacati dei pensionati e così via e dopo una serie di appunto confronti è stato elaborato un materiale comunicativo rivolto appunto al target di riferimento che aveva l'obiettivo di aumentare la motivazione all'attività fisica nelle persone anziane voleva essere uno strumento appunto non digitale ma cartaceo un po' vecchio stile in cui però appunto veniva data un'enfasi all'aspetto visuale in cui c'era una forte come dire attenzione alla segmentazione del target secondo le tecniche del marketing sociali e in cui si cercava anche di mettere in pratica una serie di strategie comunicative evidence based ovviamente si voleva anche dare rilievo alle informazioni appunto sulle offerte disponibili nel territorio specifiche per gli anziani volevamo quindi anche dare attenzione a come dire a quegli spazi presenti appunto nella realtà territoriale in cui le persone anziane si possono sentire a loro agio in un contesto sicuro e inclusivo per produrre il materiale abbiamo fatto prima delle interviste in profondità con degli anziani di Bologna poi abbiamo raccolto le offerte locali abbiamo fatto un'opera abbastanza come dire di pretesti sensibilità e legibilità e poi abbiamo fatto una versione finale vorrei appunto soffermarmi su un aspetto a che a mio avviso è un po' trascurato che quando spesso si costruiscono dei materiali comunicativi come dire l'ancoraggio teorico di questi materiali comunicativi è a volte scarso e questo articolo proprio pone questo problema a mio avviso è un problema importante perché in questo proprio articolo viene messo in evidenza come i messaggi che si fanno nelle brochure spesso non sono basati su teorie e ricerche precedenti specialmente appunto gli opuscoli che gli enti fanno appunto per promuovere l'attività fisica non sottolineano i benefici psicologici e sociali dell'attività fisica ma si soffermano solo su quelli fisici e non si concentrano su aspetti come l'autoefficacia e l'autoregolazione del comportamento che sappiamo essere importanti nel mantenimento dell'attività fisica quindi abbiamo cercato di includere appunto nel nostro materiale comunicativo dei messaggi sulla base appunto delle ricerche precedenti ad esempio ci sono degli studi questo molto interessante sull'annual behavioral medicine in cui si mostra appunto come i messaggi di tipo game frame cioè quelli basati sulle acquisizioni hanno più efficacia dei massaggi di last frame soprattutto appunto in ambiti di prevenzione fisica la desidera soffizionale dal fumo e la prevenzione del tumore alla pelle e quindi abbiamo deciso di includere soprattutto messaggi game frame nel nostro opuscolo siamo andati a rivedere le raccorse sapete specifiche per gli over 65 quindi almeno 50-150 minuti di attività fisica e aerobica rafforzamento muscolare equilibrio però abbiamo anche visto che è uscito proprio nel 2013 nell'European Journal of Public Health un articolo che ci dice che i messaggi soglia potrebbero essere in cui si identifica la soglia di 150 minuti a settimana potrebbero essere percepiti come irrealistici dalle persone altamente sedentarie perché sarebbero degli obiettivi difficili da raggiungere e quindi abbiamo deciso di includere sia messaggi threshold cosiddetti quindi abbiamo da una parte incluso la soglia dell'OMS ma abbiamo anche cercato di stemperare la soglia includendo appunto messaggi di tipo non threshold abbiamo poi rivisto appunto le attività fisiche praticate da over 65 come degli anziani attivi fa attività come passeggiare portare il cane a spasso e andare in bicicletta attività come ginnastica dolce pesca e bocce sono minoritarie e nuoto, corsi e ciclismo sono assolutamente infrequenti abbiamo quindi centrato la nostra attenzione sulle attività già più frequenti perché la nostra idea era aumentare le attività più frequenti e quindi abbiamo fatto uno sforzo che è uno sforzo importante perché si occupa di promozione dell'attività fisica che è sempre quello di comunicare l'attività fisica non come un'attività in più ma come un'attività integrante nella quotidianità di una persona in questo caso anziana quindi abbiamo proprio cercato di includere tutta una serie di idee e suggerimenti per non percepire l'attività fisica qualcosa in più ma qualcosa di integrato abbiamo poi appunto incluso la personalizzazione nella percezione dei benefici mi vorrei focalizzare appunto su questa domanda che differenza c'è tra questi due messaggi vedete questi due messaggi sono diversi perché appunto enfatizzano le stesse cose però in maniera diversa in comunicazione della salute questi si chiamano il primo messaggio espositivo il secondo messaggio narrativo e appunto ci sono delle evidenze questa appena pubblicata su Health Communication 2015 in cui appunto si dice telling stories saving lives in cui i messaggi narrativi sono messaggi più efficaci per motivare al cambiamento e quindi abbiamo cercato proprio di includere i messaggi narrativi nel nostro opuscolo i nostri destinatari come vedete erano appunto anziani uomini e donne di medio stato socio-economico che comprendono l'italiano perché l'opuscolo era un italiano e con livelli medio elevati di motivazione al cambiamento abbiamo infatti usato il modello di Prociasche di Clemente in questo modo abbiamo fatto una sezione appunto dedicata ai contemplatori in cui veniva in qualche maniera riconosciute le difficoltà a fare attività fisiche abbiamo vedete incluso i classici processi di come dire dubbio verso l'attività fisica posso farmi del male sono troppo vecchio sono troppo stanco e invece una parte rivolta ai preparatori ovvero alle persone che già sono intenzionate a fare attività fisica in cui abbiamo enfatizzato la parte appunto sul come, dove, quando farla vedete abbiamo fatto una serie di incluso una serie di offerte balli di gruppo abbiamo incluso il progetto palestre sicure ma anche appunto forme di attività fisica svolte a domicilio e poi abbiamo illustrato alcuni esercizi di base suggeriti dai laureati in scienze motorie questo è il prodotto finale che è stato distribuito in vari centri anziani e altri luoghi e contesti più frequenti ad altri ma poi appunto il progetto è stato realizzato attraverso il coinvolgimento di numerosi stakeholder anche appunto a livello a livello locale tutti i materiali vengono possono essere scaricabili dal sito cities for sports e nella vostra cartellina trovate appunto sempre ulteriori informazioni grazie per l'attenzione grazie grazie professor per gli Antoni e adesso passiamo a parlare probabilmente quasi dell'opposto ci siamo domandati come facciamo a far muovere le persone anziane adesso andiamo a parlare delle problematiche connesse a chi attività sportiva anche in età avanzata ne fa molta qualche volta troppa non lo so se sarà affrontato anche questo tema e do quindi la parola volentieri a Gianni professore alla scuola di specializzazione in medicina dello sport di Ferrara al corso di laurea in scienze motorie di Ferrara buonasera a tutti grazie agli organizzatori per avermi invitato i redattori che mi hanno preceduto hanno usato un termine che l'ageismo francamente non lo conoscevo e nel suo caso nella mia relazione mi imbarazzo un po' perché forse bisogna ribaltare la questione cosa vogliono fare questi atleti master e qui vi ho messo Gianni Morandi per fare onore a Bologna perché mi è capitato alcune volte andando sul passo della Raticosa vederlo correre ed è un rappresentante col pettorale dell'atleta master perché l'atleta master è un atleta competitivo per definizione ma bisognava fare un convegno su queste tematiche perché si può dire tutto il contrario di tutto si può fare un mix di tante cose ma non lo so adesso io dico una serie di cose poi vediamo alla fine di concludere saranno matti questi saranno lungimiranti non è tanto facile da definire di certo va segnalato questo che la prestazione atletica declina inevitabilmente con l'età quindi togliamoci dalla testa se qualcuno di noi ce l'avesse ma di molti atleti master che la loro prestazione non sia in declino perché anche questi grandi atleti che sono grandi atleti stanno declinando la performance studiando questo argomento mi sono imbattuto in persone straordinarie cent'anni qui in platea c'è una ragazza che camminava con un cinque anni ragazzo anche in questi grandi esempi la fisiologia è in declino non dimentichiamolo mai il ruolo dell'esercizio cronico altra intensità di è una prevenzione verso il decremento delle funzioni fisiologiche e delle capacità fisiologiche ma è una riduzione al decremento non è un'implementazione l'atleta master può rappresentare un esempio affascinante di un bel invecchiamento di successo o può rappresentare anche uno stimolo a farsi del male ecco che vi mostro una classica diapositiva che è il consumo massimo d'ossigeno inevitabilmente declina con l'età nell'uomo nella donna nell'atleta in chiunque non ho voluto mostrare la differenza che esiste tra allenato e non allenato perché il concetto è che declina in ogni caso ed inevitabilmente l'alta intensità di allenamento che è una prelogativa degli atleti master può cancellare il declino relativo all'età ma non cancella il declino dai 25 ai 30 anni si assiste ad uno steady state di questa funzione fino verso 45 e 50 anni poi il decremento è più cospicuo nell'età successiva oggi c'è abbastanza accordo nel definire che una dell'età limite per un calo cospicuo di queste funzioni avvenga tra i 60 e i 70 anni e addirittura si ritiene oggi che dopo i 70 anni questa funzione sia pochissimo modificabile quello che ci ha detto che i collaboratori in uno studio è che comunque i due terzi di questo declino sono da attribuire al disuso quindi al sedentarismo e i due terzi di questo declino non è poco guardate qui vi ho mostrato così a titolo esemplificativo che i tempi di percorrenza in bicicletta calano con l'età negli uomini e nelle donne inevitabilmente i tempi questi qui sono tempi di atleti presi a seconda delle diverse gruppi d'età inevitabilmente calano guardate che questa è la funzione di atleti master scusate che praticano diverse discipline il segnale in rosso sono quelli che fanno triathlon perché il triathlon raggruppa tre delle discipline più praticate dagli atleti master che sono la bicicletta il moto e la corsa tipicamente perciò l'atleta masters si rivolge all'attività di carattere aerobico attenzione io vorrei un aspetto che il consumo massimo d'ossigeno è vero che declina nel tempo ma se noi guardiamo questo di Myers datato 2002 che mette in relazione il consumo d'ossigeno e il rischio relativo di morte è una relazione alti livelli di consumo d'ossigeno e diminuzione della mortalità viceversa alti livelli di mortalità con basse consumo d'ossigeno ci sia una relazione importante fra le capacità e le funzioni e perciò anche le capacità e le funzioni degli atleti masters e la sopravvivenza è qualcosa che è già scritto e già codificato non dobbiamo certamente noi porre delle questioni la forza la forza e il declino in questo caso è un capitolo meno studiato della questione del metabolismo aerobico ma c'è un'evidente tipologia di declino che è uguale per le capacità anche per l'andamento delle capacità aerobiche vedete che l'atleta non il soggetto non allenato ha un declino più precoce l'atleta allenato ha un declino meno precoce ma l'andamento se voi vedete è quasi soprapponibile fino ad un'età che è attorno ai 50 60 anni che a quel punto nei soggetti non allenati il declino è più evidente ma l'andamento più o meno è lo stesso si assiste inevitabilmente anche nei grandi atleti ad un declino guardate che poi vengono riportate che si diminuisce i muscoli con una percentuale dell'1 1,1% ogni anno ecco che compare la sarcopenia dell'anziano che è una delle problematiche più importanti per le fragilità degli anziani chiaro che nei soggetti che svolgono alte dosi di attività questo fenomeno compare molto molto in ritardo e si ritiene che avvenga dopo gli 80 anni cosa si riduce principalmente si riducono le fibre di tipo 2 ed è per questo che calano moltissimo le espressioni di velocità tipicamente sono quelle delle fibre bianche e sono le prime a scomparire ed essere sostituite quando va bene il tessuto collettivo questo è un tessuto di poso quindi più grandi masse muscolare in questi attenti master un'architettura muscolare anche migliore e una funzione migliore questo è documentato di meccografia molto precisa la funzione l'architettura scolare ha una maniera in piena un'attesa non è molto simile per i 20 giovani e soprattutto il tessuto del tessuto di sanità questo questo ve l'ho dimesso in meccografia perché oggi lavori con questa questione di 70 anni come un limite dove tanti benefici non si riproducono come nelle becche di precedenza ma questi benefici sono molto molto assottigliati guardate che gli studi che vengono pubblicizzati sono studi di intervento e quindi come tali prevedono hanno dimostrato che la capacità dell'esercizio fisico dell'allenamento esercizio fisico di stimolare delle adattamenti positivi nei muscoli in tutte le età dipende poi quanto è la percentuale di miglioramento nelle diverse decade di età c'è un aumento sicuramente della forza muscolare della massa muscolare un aumento della sintesi delle proteine e perciò questo qui è intimamente legato anche ad una particolare cura che ci deve essere dell'alimentazione dell'anziano dove l'apporto proteico deve essere motivato e non demotivato molto spesso queste indicazioni in cui c'è l'abbandono assoluto all'introduzione delle proteine animali in qualsiasi campo uno le metta in discussione vanno assolutamente matchate con il fatto che nell'anziano in ogni caso l'apporto proteico deve essere adeguato per il mantenimento delle funzioni e non non per il miglioramento ma anche solo per il mantenimento ci sono cambiamenti nelle catene pesanti della miosina nella composizione e soprattutto c'è un aumento importante delle cellule satellite che sono quelle che determinano dieci manca ah ok scusami pensavo già di essere avevato cinque guardate riportiamo la nostra attenzione sulla forza muscolare e la sopravvivenza questo è un valore è un lavoro uscito sul British Medical Journal 2008 8000 persone un grande studio guardate un po' che se noi questo studio prende in considerazione tanti aspetti ma due in particolare mi sembrano rilevanti uno andare a verificare le cause per tutte le cause di morte nella popolazione guarda aspetta che c'è il mouse qui al di sotto dei 60 anni e al di sopra dei 60 anni vedete come nonostante ci sia un influsso positivo in tre classi di soggetti con differenti livelli di forza sempre a favore naturalmente che ha più forza guardate sopra i 60 anni come queste differenze vengono esposte a favore dei soggetti che presentano dei livelli di forza più elevati se andiamo poi a verificare le morti per tumore in questo gruppo di persone vedete che la stessa relazione viene mantenuta perciò la morte per tutte le cause o la morte per l'otologia specifiche come i tumori vengono ad essere diminuite tantissimo in persone che hanno livelli di forza più elevati poi biologicamente non chiedetemi il perché perché gli studi sono ancora in corso se guardate poi di mettere in relazione sia la forza muscolare e la sopravvivenza e l'effetto anche di chi ha un allenamento di resistenza e cardiorespiratorio guardate bene come i soggetti unfit hanno una possibilità di morte superiore ai soggetti che hanno sia forza muscolare che fitness cardiorespiratorio di livello superiore perciò anche per questo parametro c'è una specificità che ci dice che la forza muscolare è intimamente legata anche alla sopravvivenza di una popolazione perciò l'atleta master va ancora bene come modello ideale adesso prendiamo in considerazione tre discipline che sono quelle che vanno per la maggiore nuoto in un grosso studio del 2008 in cui viene messa in una popolazione di 40.000 persone questa è studiata per molto tempo mette in relazione i soggetti che facevano nuoto con soggetti sedentari guardate che sempre la mortalità com'è molto più elevata nei soggetti che sono sedentari rispetto a quelli che fanno nuoto ma la cosa che hanno incrociato in questo studio è di mettere in relazione quelli che fanno nuoto con quelli che corrono nonostante quelli che corrono muoiono di meno di quelli che sono sedentari però i nuotatori in questo studio muoiono molto di meno dei soggetti che fanno la corsa perciò c'è differenza nella scelta e forse anche nella prescrizione delle attività quantomeno c'è bisogno di porsi il problema il ciclismo qui ho preso uno studio che molti di voi conosceranno che è la mortalità dei partecipanti francesi al Tour de France dal 1947 al 2012 ci sono 786 soggetti dal 1947 al 2012 guardate un po' si vede male lo si vede? intanto vedete che al Tour de France che è la terza manifestazione per importanza al mondo dopo le Olimpiadi e i campionati del mondo di calcio a differenza delle altre questo viene fatto ogni anno quindi la valenza è moltiplicata per 4 guardate che all'inizio dopo la guerra la partecipazione dei francesi era molto superiore rispetto invece ai nuovi partecipanti adesso andando avanti nel tempo quando i partecipanti li hanno portati a 200 adesso sono 200 della corsa si sono un po' modificate queste percentuali di partecipazione ma l'interessante è questo grafico che mette in relazione agli standard sempre la mortalità di questi soggetti che evidentemente hanno svolto grandi volumi di allenamento e di grande intensità guardate ecco qua vedete che avendo diviso le classi d'età ogni 5 anni sempre questi ciclisti stanno al di sotto della normalità che ci si aspetta per età sesso di questi soggetti perciò five minutes perciò avanti li hanno raggruppati in periodi maggiori dal 47 al 70 dal 70 al 90 così via voi vedete bene quello che voglio far vedere che questi soggetti muoiono di meno della popolazione quindi muoiono di meno di quello che ci si aspetta anche i soggetti che hanno svolto questi grandi impegni grande attività sportive che a volte ci pongono il dubbio ma farà bene questa attività la corsa è qui è qui vado a terminare perché qui lo studio della longevità è il copenhagen city art study quindi è un grosso studio fatto su 17.000 erotte persone uno studio di follow up di 35 anni guardate un po' che mette in relazione i soggetti non jogger con i jogger e prende in considerazione coloro che corrono guardate un po' ore di corsa alla settimana chi fa meno di un'ora muore cioè ha un rischio di morte del meno 32% chi fa dall'1 a 2,4 42% meno 21% chi fa più di 4 ore meno 14% sento già il brusio in sala che ci porterà alle conclusioni guardate un attimo che vi voglio far segnalare come la classe di rischio inferiore è quella che fa da 1 a 2,5 ore alla settimana di corsa quindi che rientra sicuramente in quei 150 minuti che l'organizzazione mondiale della sanità e tutte le associazioni scientifiche ci propongono non che gli altri muoiono di più muoiono di meno ma quelli che guadagnano di più sono questi se prendiamo un altro parametro che è quanti allenamenti faccio alla settimana chi fa un allenamento alla settimana ha un meno 60% chi fa sempre 2-3 allenamenti meno 60% chi ne fa più di 3 ha più 24% sta emergendo è uscito ultimamente uno studio che viene chiamato la you save curve cioè l'andamento a due della curva sta venendo il fenomeno come dell'obesità o del di maniera cioè perciò nella parte finale rimane l'interrogativo se tanto fa bene o mentre altri studi come quello del nuoto quello del ciclismo hanno portato il contributo che tanto in ogni caso fa bene questo studio porta un dubbio se la troppa attività ad una certa intensità possa non essere così vantaggiosa come si era pensato qui ho voluto segnalare quello finisco dicendovi che l'esperienza degli atleti master è stata portata in questo attività del 2007 che sono superior l'atletica performance dei trappiantati di cuore perché a questo punto noi vediamo questi meravigliosi soggetti a cui è stato trappiantato il cuore che hanno delle svolgono delle attività sportive e hanno delle prestazioni molto migliori di soggetti che invece non hanno avuto delle sfortune e la loro sfortuna è che sono diventati dei sedentari perciò il messaggio dell'atleta master è questo l'atleta master ci insegna tantissime cose dal punto di vista della fisiologia dal punto di vista degli studi di sopravvivenza ma ci insegna anche che dobbiamo avere attenzione della prescrizione dell'esercizio fisico in certe fasce di età di quale esercizio fisico e soprattutto un rapporto particolare con chi abbiamo davanti grazie per l'attenzione grazie a conferma posso dire che già nell'Harvard Allum Study del 1986 c'era quel famoso grafico che per primo mostrava come la mortalità scendesse con l'aumentare dell'esercizio fisico tranne l'ultima colonnina quella che si riferiva alle persone che praticavano volumi maggiori di attività fisica che era un po' più alta quindi riproducendo quest'andamento che hai mostrato tu adesso veniamo a parlare di un altro tipo di fragilità quindi abbandoniamo il campo dell'età anziana per passare al campo della disabilità sia fisica che intellettivo relazionale devo dire la verità che introduco questa sessione questa presentazione con un velo di tristezza perché è venuto a mancare questa notte Gianni Scotti il presidente del comitato italiano parolimpico della regione Emilia Romagna che è una persona che ha collaborato con le nostre aziende per numerosi progetti e che dall'ospedale anche i giorni scorsi continuava a telefonare dicendo adesso mi stanno per dimettere poi riprendiamo quindi veramente sono stato colpito ecco da questa cosa e introduco Ferdinando Tripi che è il direttore dell'unità operativa tutela sanitaria delle attività sportive si chiama giusto e che collabora anche col servizio sanità pubblica della nostra regione buongiorno a tutti spero di fare per tempo abbiamo una certa tendenza a debordare anche fisicamente comunque ringrazio per il cortese per il cortese invito poi ho messo anche la fotografia della ghirlandina dalla mia città e quindi a segno di una serie di esperienze che vengono fatte a Modena che possono sembrare banali semplici ma che comunque impegnano attivamente un servizio che svolge diverse funzioni tra cui anche quella di certificazione 12.000 certificati l'anno e quindi ha inserito questo tipo di attività stabilmente tra le sue attività e quindi ci piaceva condividere con voi questo tipo di esperienza già noto l'inattività è pericolosa per la salute questo è ancora più vero nella popolazione disabile dove le abilità residue bisogna che siano preservate e possibilmente sviluppate a vicariare le funzioni perse tutti abbiamo presente Alex Zanardi si tratta di un atleta con determinata caratteristica o bebe bio che ha perso braccia e gambe per un'infezione che è una bravissima spadaccina sicuramente si può dire che la disabilità compromette l'efficienza motoria e quindi anche sull'efficienza della prestazione fisica e sportiva agisce in maniera molto negativa bisogna cercare di spostare l'attenzione dalla menomazione al residuo funzionale e lavorare su questo così come lavorare sull'interazione tra individuo e ambiente quindi l'allenamento sportivo l'esercizio fisico deve essere teso a esplorare altre potenzialità a cercare di sviluppare servissene per vicariare le funzioni perdute l'obiettivo è migliorare i propri limiti e ovviamente raggiungere un obiettivo di salute quanto può essere importante per esempio il giocatore di basket giocatrice di basket in questo caso riesce probabilmente ad affrontare molto bene la salita di uno scalino dopo essersi allenata per questo tipo di attività mentre invece per un soggetto sedentario in carrozzina può essere problematico e richiedere un aiuto consistente e quindi l'attività adattata l'attività integrata l'attività adattata per un sviluppo prestativo che vale nello sport ma vale anche nella quotidianità un adattamento delle possibilità motorie connesse con la limitazione le attività adattate per quanto riguarda lo sport e l'allenamento devono essere ovviamente modulate per intensità devono ovviamente bisogna realizzare un buon rapporto con la durata del sotto allenamento introdurre nel caso di sport regolamentazioni tecniche in grado di dare comunque una possibilità a tutti e escludere delle attività che possono essere problematico addirittura causare danno per esempio abbiamo un esempio qua nel calcio per amputati qui la nazionale che ha sede a Formigine di Modena visitiamo gli atleti è un'attività sicuramente preziovole ma quanto può pesare sull'arto residuo questo tipo di attività sicuramente bisognerà studiarlo bene adeguatamente certo si può fare lo stesso l'aeroplanino anche se magari dopo si cade per terra ma è sempre una cosa che dà molta gioia ci sono stati appena adesso i campionati mondiali della nazionale amputati che è andata in Sud America o il volley sitting volley questo per esempio è il tipo di situazione che si crea qui c'è la Lituania che vince la medaglia paralimpica vedete la gioia è identica a soggetti normodotati quindi questo è molto molto importante un individuo fisicamente integro ma sedentario presenta un calo delle proprie capacità prestative l'abbiamo detto fino adesso la famosa malattia ipocinetica un disabile può essere un sedentario anzi molto spesso è un sedentario obbligato a questa situazione si possono associare anche patologie invalidanti e anche condizioni ambientali possono costringere a questa situazione in più possono esserci condizioni accessorie disturbi metabolici patologie urinarie affezioni respiratorie cardiorespiratorie guardiamo per esempio questa tabella che comunque vi lascio potete trovare dappertutto come ci sono delle condizioni patologiche associate che vanno valutate per esempio nella sindrome di down l'instabilità atlantoassiale i vizi cardiaci possono condizionare vanno ovviamente studiati bene prima di prescrivere o di indicare di consigliare un'attività fisica sportiva quello che noi vogliamo cercare di spezzare è questo circolo vizioso dove la disabilità porta a una vita sedentaria a menomazioni successive a limitazioni funzionali questo era il nostro obiettivo e quindi lavorare per questi benefici esercizio fisico nei disabili che sono come quelli che abbiamo visto nella popolazione normale ma sicuramente una riduzione della depressione un miglioramento dell'autostima e della socializzazione sono fattori importanti una prevenzione del clino cognitivo l'incremento dell'autonomia sono condizioni ai quali miriamo spezzando questo circolo vizioso sicuramente si possono introdurre in ognuno di questi step fattori molto molto positive fino alla minore difficoltà compiere l'attività della vita quotidiana necessaria per l'autonomia in casa e fuori casa ecco ci siamo trovati quotidianamente ma comunque basta riflettere un momentino di fronte a diverse difficoltà quello che c'è sul territorio ci sono molte associazioni spesso associazioni di pazienti associazioni di parenti di pazienti genitori sparsi sul territorio spesso costituiti da soli volontari assolutamente emeritevoli vivono di sussidi anche per microprogetti spesso poco coordinati tra di loro c'è uno scarso coordinamento tra queste associazioni anche un coordinamento logistico per esempio c'è un'associazione che è un pulmino non lo metto a disposizione di altre associazioni mentre si potrebbe fare oppure è un tecnico sportivo che potrebbe essere condiviso o lo spazio il CIP spesso ha avuto un interesse mi dispiace tanto per l'amico Gianni ma ha avuto spesso un interesse soprattutto per gli sport che potevano avere una per le attività che potevano avere un'evoluzione verso uno sport verso uno sport paralimpico mentre magari ampliando la base delle attività svolte anche dal semplice attività ludico-motore si può arrivare anche a sviluppare un'attività sportiva migliore forse è stato curato poco a questo aspetto altri problemi il salto tra neuropsichiatria e psichiatria molto spesso i ragazzi seguiti fino a 18 anni poi vengono perduti nell'ambito delle malattie psichiatriche c'è poca continuità sulle attività fatte prima o dopo l'attività scolastica molto spesso soprattutto nelle classi elementari l'insegnante di appoggio è preparato per questo c'è un inserimento c'è un rapporto tra scuola e extra scuola questo ancora non c'è l'impreparazione delle società sportive molto spesso è paura anche di affrontare il mondo della disabilità mentre sarebbe importante preparare anche a questa evenienza problemi logistici problemi di equità molto spesso si riesce a offrire qualcosa solo nei centri nei centri urbani mentre la popolazione sparsa fa più fatica i pediatri i medici di libera scusate i medici medicina generale colgono questo problema importantissimo per la popolazione generale ma per il disabile forse ancora di più quindi infine ma ce ne sarebbero tanti motivi molto spesso ci si limita alla ricerca della soluzione abbiamo fatto questo progetto un'ora di attività per i disabili due volte l'anno ed è finita lì invece bisognerebbe cercare di creare proprio una persistenza delle esperienze in modo di essere di riferimento per la società noi ci abbiamo provato questo nostro progetto disabile sport questo disegno è fatto di un bambino in carrozzina che abbiamo scelto come logo del nostro progetto che si chiama disabile sport e si sviluppa tra le due USL di Modena e di Reggio Emilia questa è una brochure che abbiamo distribuito e c'è un sito che si può trovare sul sito dell'azienda di Modena immagino sia linkato anche con quello di Reggio con una serie di siti cliccabili diciamo dove i disabili e la loro famiglia possono cliccando sopra o trovando un link poco sotto vedere dove sono le opportunità di attività fisica variabili per i propri cari o anche il disabile stesso che vanno dall'equitazione all'agility dog al tennis al tennis tavolo eccetera ma premessa di tutto questo c'è il fatto che è stato costituito presso il servizio di medicina dello sport un ambulatorio un ambulatorio destinato a persone disabili di ogni di ogni tipo residenti a Modena e provincia dal 2007 che si propone di affiancare e seguire i disabili nella scelta dell'attività sportiva più donne e gradita fornendogli inoltre indicazioni plurispecialistiche quindi non solo la certificazione ma più che certificazione è una valutazione della cosa che può fare e poi partecipa a quest'ambulatorio alla rete dell'opportunità messe sul territorio siamo partiti da questi aspetti che tra l'altro avevo già citato ma anche dall'ultimo aspetto l'attività sportiva inadeguata nel disabile può addirittura creare problematiche abbiamo assistito personalmente per esempio nell'equitazione per i bambini da una volta i soggetti vengono trascinati sopra il cavallo e succedono possono accadere problematiche bisogna anche avere una certa accortezza anche nelle cose che si fanno anche negli operatori il progetto finanziato è stato grande il Panatron International Club che ha lavorato su questo progetto ha presentato tutta una serie di partner abbiamo messo insieme un po' di soldi che ci hanno consentito di partire insieme all'azienda all'azienda di Modena però è stato soprattutto un impegno da parte delle istituzioni pubbliche delle strutture anche private siamo partiti con queste ma poi la regione l'USL ci hanno dato un grosso aiuto all'inizio però solo il privato è stata una cosa anche interessante da questo punto di vista punti 4, 5, 6 sono quelli che più ci interessano aumentare la consapevolezza sociale del problema formare professionisti della salute perché volevamo anche mettere in rete delle competenze delle conoscenze e averne noi stessi dalla rete esterna studiare le correlazioni di trasporto e stato di salute potete cercare di migliorare l'abilità residua necessaria alla vita quotidiana tutti i tipi di disabilità abbiamo detto soprattutto disabili che ancora non praticano alcuno sport ecco qua c'è la ricchezza dei nostri loghi mi piace farlo vedere perché non si è trattato di un intervento spot molti di questi loghi sono loghi di strutture aziende che partecipano tuttora attivamente di comuni che hanno inserito nei loro piani di zona questo tipo di attività di privati che continuano a versare denaro oppure ci danno aiuto logistico e questo è molto importante e poi questa bucchia di loghi si sta arricchendo anche recentemente con altri partner la nostra equipe è costituita dal direttore che è quello che fa meno che sono io e poi c'è lo specialista in medicina dello sport e fisiatria medico dello sport la dietista lo specialista cardiologo e medico dello sport neuropsichiatra infantile quando serve due laureate stampa la tecnica chip che però è scomparsa perché non ci viene più data però monta la psicoterapeuta che da pochi giorni abbiamo aggregato all'equipe in maniera da lavorare sul soggetto disabile e sulla famiglia per il tema della motivazione anche della relazione e l'infermiera professionale qui abbiamo Cecilia Camellini che è la nostra amica che partecipa alla giornata di solidarietà dello sport dove facciamo vedere ogni anno tutte le possibilità che ovviamente quasi tutte insomma quelle che ci vengono offerte al mondo della disabilità in un'unica manifestazione tra Modena e Reggio Emilia l'attività valutazione multidisciplinare dicevo viene utilizzata una scala che si chiama scala FIM delle competenze motore diciamo test eventuali di approfondimento quindi prove da sforzo facilitazione per l'acquisizione di supporti tecnici per esempio l'acquisto di una molla per il piede cadente oppure di una carrozzina particolare per un certo tipo di sport abbiamo di tutto da punteggio 18 quindi bambino con gravissimi danni cerebrali a uomo che ha una piccola disabilità tutto sommato molto interessante il fatto che lavoriamo sulla nutrizione il 7% dei ragazzi il 7% dei soggetti ottiene un counseling cioè tutti vengono valutati dal punto di vista nutrizionale il 7% continua ad essere seguito nel tempo perché ha bisogno di approfondimenti chiede un aiuto e stiamo pubblicando un lavoro proprio su questo viene fatto il diario alimentare come viene fatta la valutazione nutrizionale eccetera ecco questi sono i nostri quanti minuti? 5? 2 minuti ho finito 2 minuti poi volevo farvi vedere un piccolo film sì sì faccio prestissimo i numeri sono sono questi per il momento stiamo lavorando con Reggio Emilia che partecipa al progetto soprattutto per il versante scolastico con la stessa equip si distribuisce tra Modena e Reggio speso che sia l'inizio di una permanente collaborazione di un'unità tra i due molto bene insieme di bello c'è da dire che il nostro progetto è stato grazie al dottor Palazzi segnalato all'organizzazione della sanità che l'ha inserito tra le pratiche di riferimento e questo ci fa veramente molto piacere pur comprendendo tutti i limiti nel quale ci si tratta tutti i giorni due cose velocissime sulla schizofrenia e sulle malattie psichiatriche sulle quali stiamo lavorando da poco ci sono mille esperienze voglio ricordare il progetto Matti per il calcio fatto dal WISP con una serie di altre città noi lavoriamo con il Dipartimento di Salute Mentale consapevoli che il 20% che la vita del soggetto schizofrenico viene accorciata del 20% rispetto alla popolazione normale soprattutto per tematiche legate alla sedentarietà a problemi legati alla terapia e alla malattia malattia coronarica molto più frequente obesità sindrome metabolica molto più frequente nella popolazione con problematiche psichiatriche vado rapidamente avanti per farvi vedere scusate volevo farvi vedere il film che è molto interessante questo è l'aumento di peso è un grosso lavoro di revisione fatto nel 2008 parla di questo aumento di circa 19-20 kg nei primi 48 mesi malattia psichiatrica bisognerebbe riuscire a intervenire immediatamente con l'attività fisica sportiva perché questa non solo incidenza della sedia metabolica e delle problematiche ma aiuta dal punto di vista della riduzione dell'uso di farmaci miglioramento dell'autostima e capacità di relazione noi lo facciamo abbiamo cominciato a fare questo tipo di attività qui abbiamo i nostri pazienti psichiatrisi affetti da sindrome metabolica o diabete in palestra sono in palestra nella medicina dello sport li avviamo a una pratica sportiva e mettendoli poi in una rete successiva di palestre sicure che stanno lavorando con noi e devo dire il nostro pubblicato sui nostri pazienti ha smesso di prendere i farmaci e attualmente è vice allenatore della società sportiva la fratellanza ed è una grossissima soddisfazione perché insomma vuol dire che il meccanismo sarà uno solo però funziona facciamo tante cose con le palestre volevo soltanto farvi vedere alcune esperienze che vengono condotte sui bambini insieme alle neuropsichiatrie infantili questi sono i quattro sport sui quali lavorare la neuropsichiatria anche insieme a noi karate basket i bambini hanno imparato a vestirsi e svestirsi da soli giocare a basket far parte di una squadra hanno imparato a fare la doccia da soli con grandissima soddisfazione dei genitori e in più facciamo una serie di attività di innesco di percorsi positivi bullying bullying per ragazzi con problematiche psichiche che lavorano con noi vengono da noi a fare la visita li valutiamo poi li inseriamo gli facciamo fare bullying durante una determinata stagione e poi li passiamo a nuoto dove possono fare il basket vedete i nostri sponsor tennis questo è il torneo fatto domenica 16 partecipanti tennis in carrozzina a carrozzina siamo riusciti noi a trovare gli sponsor per pagarli è anche bello perché c'è l'aspetto multiraziale che non fa male calcio per disabili intellettivo relazionali fatto insieme al panatron e insieme si può sempre dalla medicina dello sport stiamo iniziando un'attività in piscina con una palestra con una piscina sicura continuiamo con il calcio e vari tipi di attività se mi consentite vi faccio vedere un filmato velocissimo di tre minuti su questa esperienza dell'hockey in carrozzina noi collaboriamo con loro li abbiamo aiutati e gli stiamo aiutando tuttora collaboriamo con le famiglie aiutiamo anche a creare una situazione logistica che consenta si sente l'audio questi ragazzi sono fantastici perché è tutto nato da questo ragazzo che si chiama quando ero piccolo per prendere un pallone per prendere la calci che era la cosa non era particolare la scuola finché quel giorno un tecnico unofficialista e il suo lavoro di un'area mi viene detto che con i suoi disegni sarei arrivato a supergiorni a supergiorni a supergiorni a supergiorni a supergiorni a supergiorni per un'area di 20 anni non è una bella cosa che è caduto il mondo dura dura perché non te l'aspettavi l'impatto è che ha cambiato la vita più o meno più ho sfidato la macchina e sono reso l'antenne in un caso di un contatto distrofico 20 anni fa ho ritenuto molto più tempo per stare a casa e tramite internet ho scoperto che esiste il VU CEROTE nella sua testa da subito c'è stata un'idea io devo parlare alla mia squadra a Modena conoscendo tanti ragazzi a Modena che avevano mille problemi che erano sempre in casa ho pensato che andare a stare a una squadra con Modena di VU CEROTE potesse essere utile non solo come macchina non siamo solo una squadra che fa le fatture ma siamo un bel gruppo di amici una squadra è come una famiglia cioè ci si aiuta la squadra il gioco per lui è diventata quasi una cosa indispensabile nella squadra lui non ha una diversità siamo noi diversi perché lui è nel suo mondo la disabilità la disabilità è una parola grossa è un compagno di viaggio è una situazione è una condizione però se vuoi neanche qualcosa di così brutto da nascondere mi voglio dire che posso il disabile è primo mi voglio vivere in un modo diverso e ci si diventano più da da disabile cioè io ho detto che io non mi sento disabile solo il mio corpo è disabile io invece non non mi sento disabile se non mi sento penso che i ragazzi quando vedono questo sport si non muovono si non muovono gli occhi vanno giù testa bassa il sport è la mia vita mi pietra troppo non posso cambiarlo cioè sono troppo legato se mi dovesse tagliare l'ok ovviamente mi prendere una parte importante è la mia vita è il mio sport ma non solo perché io sono disabile ma come come su scuola è un momento di aggregazione questo sport regalato a mio figlio e credo a tutti i miei di squadra la possibilità di condividere una passione ho vissuto vent'anni tra i miei con 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 i miei posso tranquillamente dire che i miei con i miei con i miei sono stati molto peggio le mie metà gravidare l'avvisabile mi sono tolto mille soddisfazioni e sono convinto a arrivare ancora questo soltanto per far vedere fa parte di un film di 110 minuti quindi un po' lungo dove c'è un po' la storia dei ragazzi sono ragazzi pensate sono messi in due o tre ai supermercati aspettavano l'arrivo di altri disabili al supermercato li hanno messi insieme e c'è di tutto è quello che una volta si sarebbe definito una corte dei miracoli due o tre muoiono ogni anno ne abbiamo però se ne aggiungono tre o quattro adesso ci sono 25 ragazzi che fanno questa attività in carrozzina carrozzina del costo di 14.000 16.000 euro circa mettendo insieme questa cosa li abbiamo aiutati ci aiutano anche loro a capire molte cose la relazione con i familiari è una cosa strepitosa da questo punto di vista ci aiuta moltissimo a capire cosa cosa poter fare come puoi intervenire per anche aiutare motivare chi sta a casa in un percorso frigo televisore letto e cercare di portare guarda che tu puoi fare qualche cosa questa è una cosa molto molto importante non migliorare le abilità residue ma sicuramente la salute mentale della persona ma dell'intera comunità c'è finito niente vi ringrazio tantissimo dell'attenzione insomma così si può fare ora la dottoressa Federica Michieletto epidemiologa della regione veneto responsabile dell'ufficio prevenzione malattie infettive non infettive della regione veneto ci prenderà degli azioni per la promozione dell'attività fisica degli adulti e anziani nell'ambito dell'attuazione della carta di Toronto buongiorno allora l'ultimo deve sempre come le staffette recuperare nella corsa non sono veloce però forse nella presentazione riesco a recuperare qualcosa solo un po' volevo piccolo legarmi alla presentazione precedente che anche noi abbiamo avuto come regione la possibilità la possibilità dico perché prima sembrava un honor e poi l'abbiamo visto che è stata una possibilità di sostenere una squadra di hockey su rotelle di una squadra che è persone affette a distrofia muscolare devo dire che ho assistito a una partita e non so se definirlo sport perché appunto muovono un dito o due dita però lì veramente si vede il valore dello sport quindi io penso che questi esempi devono essere portati esempi anche per chi può fare sport e non lo fa o chi può muoversi e non lo fa perché si vede veramente un valore ecco in più chiuso questo parto la mia presentazione è un po' diversa dalle precedenti perché vuole diciamo partire dal contesto vorrei più analizzare il contesto in cui viene sviluppata l'attività motoria una delle presentazioni precedenti ha detto che il 62% degli anziani che si muovono si muovono passeggiando camminando portando a spasso il cane oppure un'altra presentazione dice che per muoversi bisogna provare piacere quindi anche il contesto deve aiutare a muoversi situazioni tipo queste non aiutano certo il movimento questa è una diapositiva che ho preso da Lucia Denoni ancora qualche anno fa ma che mi piace molto perché noi promuoviamo il pedibus per dire ma se il contesto non lo favorisce perché c'è troppo traffico vedete che è un giro vizioso quindi sia il nonno che il bambino che il genitore alla fine sono portati a comportamenti sedentari allora abbiamo colto l'opportunità che ci ha dato il progetto CCM che aveva una delle linee la linea 3 aveva come obiettivo specifico 5 quindi definire un modello di protocollo di intesa tra sedenti locali per una maggiore integrazione nella programmazione delle politiche urbanistiche allora il diciamo questo progetto questo ci ha dato l'input per aprire un dialogo regionale e tra ASL e comuni facendolo attraverso un progetto formativo perché abbiamo pensato che fosse cioè non partivamo dal punto zero alcune realtà aziendali avevano già iniziato dei dialoghi tra ovviamente ULS con i comuni e con i locali però abbiamo cercato di organizzare una formazione più strutturata a livello regionale che vedere se si poteva in qualche modo organizzare gli interventi sul territorio nelle sette urbanistici per promuovere per rendere i contesti favorevoli alle scelte di salute allora il percorso formativo è stato molto articolato molto faticoso fatto anche in tempi abbastanza rapidi perché sapete i progetti CCM hanno un tempo di latenza ed avvio che è molto vicino alla fase conclusiva e quindi bisogna fare tutto in tempi abbastanza rapidi comunque nel giro di sei mesi questo progetto formativo è stato svolto in tre moduli il primo modulo aveva come obiettivo quello di trasferire competenze al personale sanitario perché fossero in grado di definire quali erano le alleanze migliori e come costruire queste alleanze migliori col territorio è stato fatto beh dopo lo vediamo il secondo modulo invece la doppia veloce è stato l'obiettivo principale quello di definire di rendere capace di lavorare sempre il personale sanitario di lavorare in rete ed è stato allargare degli enti dei comuni il terzo modulo invece era un modulo molto pratico quindi una volta che erano state acquisite competenze del personale sanitario per costruire alleanze per lavorare in rete vedere in un'interazione col personale tecnico dei comuni come era possibile modificare l'ambiente e in quale realtà era già stato fatto allora diciamo il primo modulo ha avuto due edizioni e abbiamo coinvolto i destinatari di partimenti di prevenzione è stato un modulo teorico però con lavori di gruppo e principalmente orientato al marketing sociale definizione di alleanze il secondo modulo invece è stato fatto in modo un po' più complesso perché le prime due giornate sono state fatte solo col personale sanitario la prima giornata si è lavorato sulle esperienze concrete e analizzando nell'ottica di un contenuto di una tipologia di un lavoro di rete la seconda giornata è stata fatta una simulazione in aula cioè le 100 persone di una di esse è stato dato un ruolo ed è stata simulata una comunità in cui veniva proposto un problema da risolvere il terzo e quindi era come una prova generale il terzo modulo è stato aperto al personale delle comuni che sono trovati quindi in un confronto reale tra personale dei comuni e personale delle ULS il terzo modulo quello più complesso perché è stato fatto in tre edizioni perché teneva conto della diciamo della realtà in cui veniva svolto quindi sono state divise le province venete perché venivano sia analizzate dal punto di vista teorico in collaborazione con l'università di Venezia architettura le possibilità di agire nel territorio ma poi venivano analizzate in una tavola rotonda proprio quegli esempi di modifiche del PAT e quindi delle modifiche del territorio che hanno agevolato scelte salutari allora fatto così diciamo l'architettura è complessa è stata pensata nelle diciamo buoni dettagli però forse aveva alcuni limiti intanto era complessa e poi ci siamo resi conto alla fine del percorso che è stata una cosa anche diciamo difficile da spiegare anche agli stessi direttori dei dipartimenti qual era l'architettura dietro questo disegno perché si voleva i primi due moduli solo gli operatori sanitari che però interagivano nel terzo modulo con alcuni operatori dei comuni ma principalmente assessori e sindaci il secondo modulo vedeva gli operatori dipartimenti di prevenzione e persone del comune e interagiva con alcune persone del terzo modulo perché al personale diciamo agli amministratori comunali venivano giunti il personale tecnico dei comuni quello che si occupava degli aspetti urbanistici quindi diciamo un'architettura teoricamente che funzionava bene ne ha avuto un punteggio altissimo quindi grandissima soddisfazione da parte dei partecipanti quasi tutte le URSS hanno partecipato 31 comuni 200 persone formate sono riusciti a portare ben 53 persone dei comuni di cui 9 assessori 6 sindaci 34 tecnici dell'urbanistica questo grazie alle URSS che hanno chiesto la collaborazione di personale con cui bene o male già avevano una relazione questo è un limite e docenti di diverse preparazioni quindi dell'università docenti sanitari docenti dei comuni quindi l'architettura era complessa e diciamo il progetto formativo nel suo insieme buono però ha avuto dei limiti e questi li dobbiamo riconoscere il primo limite è che si fa fatica a portare in una stanza regionale persone dei comuni allora viene anche da chiedere se diciamo sia diciamo luogo deputato la sede regionale per avere il persone diciamo dei comuni l'altra difficoltà è che diciamo l'appetito viene mangiando quando si comincia a vedere nuove tecniche si capisce sia i propri limiti soprattutto del personale sanitario che è abituato a un certo tipo di attività sia la voglia quindi di acquisire maggiori competenze si ritiene che questo diciamo questo punto di partenza possa aprire nuovi sviluppi e poi succedeva l'altro grosso limite che invitando persone delle aziende sanitarie noi pensavamo che venissero più o meno sempre le stesse e invece succedeva che a un'edizione venivano alcuni all'altra edizione questo non poteva veniva l'altro quindi anche una eterogeneità nel personale che andavamo formare quindi lo sforzo ci è sembrato forse troppo smisurato quindi alle nostre attese per cui abbiamo pensato e questo penso che sia la scelta adesso staremo a vedere ma quella che forse ci può dare maggiori soddisfazioni e maggiore commisurate insomma l'impegno è quella di avere intanto un gruppo da formare quindi un gruppo che chiamiamolo guadagnare salute comunque un gruppo di persone che è stato nominato con nota del direttore generale a cui compete un budget c'è un referente coordinatore e dei compiti ed è queste le persone su cui noi adesso dobbiamo rivolgere la formazione altrimenti rischiamo di distribuire competenze senza avere un mandato che non hanno poi un mandato ufficiale poi il gruppo poi il gruppo deve interagire col territorio quindi forse non è neanche corretto che il gruppo porti o le persone buttate portino in una sede regionale persone del proprio territorio ma che quello che apprendono in sede regionale in una formazione regionale venga poi implementato a livello locale e quindi il piano diciamo che ha l'avvio così questa riflessione che ha dato possibilità al progetto di aprire ci ha portato quindi a definire un nuovo piano di formazione che non è più centralizzato diciamo nella parte pratico a livello regionale ma viene fatto per moduli in un progetto in un cammino annuale poi questi moduli vengono sperimentati a livello locale per dire è stato fatto un corso sulle a svacusire competenze per questa tecnica di coinvolgimento della popolazione questo anche grazie all'azienda US9 di Treviso Torgallo e a Teresa Mazzetto che sono qui in aula quindi la possibilità poi che ogni azienda sanitaria sperimenti nel suo ambito con i propri decisori queste tecniche apprese in sede regionale cosa offre quindi la regione beh oltre diciamo alla formazione poi una serie di strumenti ma adesso non mi dilungo perché li avete trovati sia esposti qui sul tabello e anche in cartellina comunque una serie di strumenti che devono essere a supporto di questa formazione di queste politiche locali abbiamo ecco forse da merzionare questi manuali uno è spazi per camminare che forse già conoscete che è proprio per il personale dei comuni che sono coloro che progettano gli spazi cittadini per avere delle indicazioni su come renderle favorevoli il cammino e quindi la popolazione adesso sta per uscire un nuovo libro che è Spazi Verde da Vivere una risorsa per la salute urbana che sono strumenti che possono essere in mano al personale dei comuni ma se non c'è dietro una formazione e anche un nostro siamo come personale sanitario stilizzarli rimangono strumenti se poco di poco utilizzo quindi ecco questi sono strumenti che vanno affiancati ad una formazione ad un'interazione locale territorio questi strumenti avete visto per la scuola e sempre per diciamo promuovere l'attività scuola però ecco questo è un altro strumento che permette l'interazione territorio urs comune scuola è questo manuale che uscirà fra poco per organizzare il paybus che proprio tiene conto anche degli aspetti che possono interessare l'urbanistica della città quindi concludo che il progetto ccm ci ha dato quindi la possibilità di aprire nuove frontiere diciamo così a livello regionale però il percorso formativo ha aperto molti interrogativi ma ha aperto anche molti stimoli molte curiosità il personale sanitario è contento di iniziare a sfidare a decimentarsi nuove tecniche però necessita di una formazione molto puntuale e molto precisa nell'anno quindi i compiti regionali secondo noi rimangono la formazione e la produzione delle condizioni che favoriscono anche gli strumenti che favoriscono l'applicazione di contatti locali però per promuovere territori che facilitano la scelta di comportamenti attivi sicuramente la contrattazione e il lavoro locale tra ulse comuni e enti che possono in qualche modo aiutare la promozione dell'attività motoria rimane un compito locale chiudo con un piccolo soltanto piccolissimo un minuto scarso che è un nuovo modo di comunicare i dati secondo noi questa è una diciamo si chiamano quelle grafiche motion che sono una specie di virus che si chiama non viene la parola va bene eh come oh 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fra poco lo finiamo, appena finituiamo il finanziamento. Grazie. Grazie ai relatori perché siamo rimasti quasi completamente nei tempi. Rispetto al programma anticipiamo la discussione su queste presentazioni per andare poi alle discussioni finali. Quindi abbiamo già una domanda, benissimo, non bisogna nemmeno incentivare a rompere il ghiaccio. Pyrus laggiù. Grazie. Io volevo aggiungere una nota di cautela sullo studio che ha fatto vedere il dottor Mazzoni sul jogging e sull'intensità. Questo studio ha avuto anche un risalto abbastanza nei media e per questo poi è stato anche sotto scrutinio. Ora come forse avete notato, sì, di attività e quindi quella del jogging intenso più di 4 ore e percentuali calcolati si basano su 16, su 16 casi, su 16 morti. E nella seconda versione sono cinque. Questo non si può fare. E inoltre nelle cause di morte, cioè non c'era nessuna possibilità di risalire alla che cos'è, per quale cause di morte. Quindi con questa bassa numerosità, se anche ho soltanto due o tre incidenti stradali, mi producono questo tipo di risultato. Quindi cos'è stato poi dal dibattito scientifico che è stato, si è svolto soprattutto, almeno io sono conoscenza di quello del Regno Unito, dove c'è un laboratorio di statistica dell'Università di Cambridge, è un'unità del Public Understanding of Risk, che si preoccupa di diffondere una competenza in salute, una competenza un po' statistica nella popolazione. Questo studio è valido per quanto riguarda l'evidenza dell'attività fisica rispetto a non farla. Però quell'altra conclusione, che farne più di quattro ore è addirittura peggiore, questo rispetto a questi limiti metodologici, è una conclusione che non si può assolutamente trarre. E quindi è chiaro che poi in media, però, alla fine di questo studio che cosa è rimasta? Perché è così appetibile per i media? Perché è un messaggio controcorrente, contro quei salutisti, e allora viene preso. E quello che rimane poi nella memoria è quello che poi, in verità, non è assolutamente sostenibile. Ecco, e questo, io spero anche nell'intervento di ieri, è di stimolare un po' il senso critico. A 360 gradi, rispetto a quello che si legge, non è che ci vuole un'expertise troppo elevata, basta non farsi, come dire, intemorire, ah è stato pubblicato da un'importante rivista, allora io lo devo prendere come oro collato, e quindi stare attenti, anche leggendo studi che magari... Abbiamo già altre quattro richieste di intervento, perciò bisogna un po' essere sintetici. Buonasera a tutti, sono Ana Maria Vacri, vengo dalla Regione Pubblica di Udine. Ai colleghi della Regione Emilia-Romagna, poi chi vuole mi può rispondere, vorrei sapere a proposito di attività fisica anziana, visto il bellissimo lavoro che avevano fatto negli anni scorsi sul protocollo Tago, a che punto è la... così lo stato dell'arte in Emilia-Romagna e questo tipo di... che altri risultati ci sono, e così, sapere un po' come è evoluto il progetto. Grazie. Monica Tiberi, Azur Marche, Area Vasta 2. Io chiedo a Gianni, Marconi, che l'interiore conferma, come messaggio positivo, sempre anche in riferimento a quello che diceva Pirus, perché questo articolo è stato molto discusso e anche abbastanza utilizzato. E allora, il messaggio positivo che noi possiamo portarci a casa, ti chiedo conferma, è questo. Le linee guida dicono che sarebbe meglio praticare, sarebbe bene praticare per la salute almeno 150 minuti di attività fisica a intensità moderata o almeno 75 minuti di attività fisica intensa. Però, ulteriori effetti benefici si possono raggiungere soprattutto per il controllo del colesterolo e per il controllo della pressione, anche incrementando l'attività fisica fino a 300 minuti di attività fisica di intensità moderata e 150 minuti di intensità fisica vigorosa. E mi sembra che nello studio la conferma c'è che però, fino a questa intensità, gli effetti sono positivi. Ok? Sì, mi confermi? La mia curiosità era questa. Se esiste alla fine un limite, oltre il quale l'atleta anziana non deve andare. Perché alla fine, che sia poi che corra o che nuota, credo che l'aspetto importante sia oltre un certo livello fa male. Possiamo cominciarlo a dire o meno? E se c'è questo livello, qual è? Ho spento? Allora, concordo perfettamente con le osservazioni del collega. La mia è stata volutamente una provocazione. Si sta passando, negli ultimi anni, dal analizzare il problema, se fare l'attività fisica, a quale intensità farla. E ormai farla ad alta intensità serve, porta benefici o diventa a volte dannosa. Certamente questo studio ha dei limiti importanti che hai segnalato, ma la mia era volutamente una provocazione. Perché bisogna polsi il problema se esiste un limite temporale e anche personale a queste attività. Oggi una risposta univoca non esiste. Quanto meno in letteratura viene riportato, tant'è vero che l'atleta marchigiano di 93 anni, che ha battuto tutti i record, il centenario che ha fatto... Vi dico una cosa, che se prendiamo i tempi dei vincitori dell'Olimpiadi del 1896 di Atene, che li paragoniamo con i tempi degli attetti marchigiano di oggi, la media dell'età di 70 anni avrebbero vinto tutte le tate, la media dell'età di 19 anni di Olimpia. 100 anni si sono fatte per il corso incredibile. E' un vero modo, c'è che la settimana, la settimana, la settimana, la settimana, la settimana. Bisogna fare il meglio su queste cose che vogliono oggi. Il messaggio è stato di data, c'è bene, è stato messaggio. Per non parlare di tutti i prodigi in tutti gli altri campi, a quello neurologico, a quello comportamentale, a quello delle capacità cognitive che hanno queste persone. Ho guardato molte cose per preparare questa relazione. Vi devo dire che mi sono confuso molto le idee. Perciò c'è da fare molto, c'è da fare molto, ci vuole la collaborazione di tutti. Ancora senza risposta alla domanda della collega di cui non ricordo il nome, io non so rispondere, non so se c'è qualcuno in sala che ha delle informazioni, se magari la vuole ripetere. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. coinvolte a livello regionale da da questo protocollo perché non è tra le cose che monitora direttamente il servizio a cui afferisco io per cui non ho non ho questi dati diretti c'era l'ultima domanda molto sintetica perché così poi passiamo alle alle conclusioni buonasera sono michele panzerino sono ricercatore dell'università di tor vergata e sono un docente dell'università san raffaele e insegno a tor vergata profitta la cattedra filippe per gli anziani la mia domanda era visto che è importante parlato dell'aumento della forza in questo caso degli arti inferiori del potenziamento dell'equilibrio e quali sono i protocolli oltre alla camminata che sono stati somministrati cioè che esercitazioni sono stati somministrati per queste due capacità condizionali e motori insomma nell'ambito di quale progetto no in chi mi sapeva rispondere nei vari progetti sono stati presentati perché anzi ampia come domanda insomma la mia domanda era questa la domanda è molto ampia adesso non ho capito se uno dei relatori abbia presentato un progetto per cui erano previsti dei protocolli così dettagliati per quanto riguarda l'intensità dell'esercizio somministrata l'intensità della forza no non chiedevo l'intensità chiedevo se c'erano quali se non esercitazioni perché la camminata solamente nella sua specificità non potenzia non aumenta la forza gli altri inferiori se c'erano dei protocolli dei lavori paralleli oppure anche in questi danno somministrati che possono essere evidenziati se io giro la domanda ai relatori se loro hanno conoscenza di protocolli appunto esatti nell'alteano che se non rispondo nel senso che nello studio sit che ho citato prima c'era un'attività tipo allenante fatta con le ciclette però l'indicatore non era la forza ma la vo2 max che veniva programmata con degli incrementi legati rispetto alla fase iniziale più il resto però non veniva misurata la forza fisica elementare né isometrica né isotonica eccetera ma io cito così a memoria un'attività non sono un tecnico nel senso non sono in grado di programmare queste cose a modena c'è un programma di prevenzione delle cadute in relazione a un centro che valuta universitario che valuta anche diciamo osteoporosi e cadute c'è un programma fatto da un collega che ha poi il progetto ginnastica che ha disegnato l'attività socializzante no di quei due bracci che fa un'attività legata alla prevenzione delle cadute per cui con esercizi che aumentano il tono che aumentano la rapidità di risposta il resto se lei mi dà un riferimento altro io posso mandare il programma che fa questo questo nostro collega sandro zoboli insomma che avete conosciuto posso fare un piccolo proprio velocissima il sole mio suocero ma ginnastica tutti i giorni perché guardando un programma televisivo per anziani perché è una di quelle fanno liscio lui mezz'ora al giorno fa questo tipo di ginnastica utilizzando una sedia devo capire qual è potrebbe essere potrebbe essere un'alternativa se è una cosa si è un'alternativa ed è presente anche nella brochure che vedete dell'attività svolte qua a bologna si tratta di alzarsi e dalla sedia con le braccia concerti che è partito come un esercizio di misura della forza gli altri inferiori dato che la misura degli altri inferiori è un indicatore strettamente correlato con la fragilità e più il resto se volete guardare tutti i lavori di luigi ferrucci e altro quello è uno è partito ripeto come così come il six minute walking la velocità di cammino misurare quelle vedere quanto migliora li conosco come elementi che danno una identificazione dei soggetti a rischio gli esercizi poi possono essere sviluppati sulla base di queste di queste indicazioni grazie direi che così chiudiamo la sessione e andiamo avanti per le conclusioni del convegno a brevemente per introdurre le conclusioni credo che queste due giornate non so se la platea di oggi è esattamente la platea di ieri si sono succedute molte persone abbiamo abbiamo davanti abbiamo in questo avuto in questi due giorni una carrellata di esperienze approfondimenti argomenti nuovi introdotti che credo davvero che il percorso del nuovo piano della prevenzione dovrà essere arricchito consolidato laddove le esperienze ci sono e sono di sistema e sono esperienze che già coinvolgono e integrano le diverse attività i diversi settori ci sono ambiti completamente nuovi io credo che abbiamo solo potuto apprezzare e valutare in questi giorni ero seduto con con alba con i colleghi del servizio e diverse volte girando mi ha detto ma questo sicuramente un argomento che dovremmo mettere nel nuovo piano questo sicuramente un tema che credo che siano state davvero due giornate davvero piene di contenuto e di spunti che saranno utili per tutti noi credo anche però che l'ultima diapositiva del primo intervento di ieri mattina della dottoressa cofano delle mani della persona che si tirava sulle maniche pensando a che cosa c'è da fare è davvero un messaggio che vale per noi operatori della sanità ma per tutti perché se un messaggio è uscito forte e chiaro da queste due giornate di esperienze è che questo mondo di esperienze di conoscenze di competenze di impegno e deve assolutamente trovare un sistema di essere integrato per portare a dei risultati che sono i risultati di salute e di qualità della vita che tutti noi ci proponiamo nello svolgimento di queste attività dicevo che il piano io credo sarà lo strumento cardine di questo percorso di integrazione di costruzione di reti e di sistema su queste tematiche quanto mai attuali del piano abbiamo chiesto oggi di essere con noi alla collega galeone la collega scalera che è presente invece con noi oggi giselta è stata con lei che ha seguito tutto per il ministero e per dipartimento di prevenzione del ministero di sanità pubblica del ministero ha seguito tutto e ha coordinato tutto il percorso per la costruzione del piano della prevenzione e il percorso più recente sulla valutazione del piano della prevenzione credo quindi che non ci sia persona più adatta a concludere questa questa e queste due giornate grazie dottoressa bedeschi ho raccolto molto volentieri questo invito questo invito a venire parlare di una cosa che come avete immaginato quello che ha detto la collega mi sta particolarmente a cuore ci sta a tutti particolarmente a cuore perché questo piano è un percorso che abbiamo fortemente condiviso con i colleghi con i colleghi delle regioni e che ha visto i contenuti veramente discussi più o meno diciamo animatamente ma sempre in maniera molto fattiva e con lo scopo sempre ad arrivare a soluzioni efficaci per per la salute per andare avanti aiutatemi qua ok perfetto allora io sono partita nell'organizzare un pochino queste conclusioni che vi rassicuro saranno brevi da quello che era in realtà l'input che ci dava questo questo corso che appunto quello di calare tutta questa veramente messa di competenze di esperienze che sono state messe messe in comune in questi giorni nel lavoro che in questi proprio stessi giorni le regioni stanno affrontando che quello della della formulazione della redazione dei piani regionali della prevenzione il piano il piano nazionale prevenzione si colloca in una strategia complessiva sui fattori di rischio per le malattie croniche e quindi anche sull'attività sull'attività fisica come determinante risalute come sedentarità intesa come fattore di rischio quindi insieme al ccm e ovviamente insieme al programma guadagnare salute parto un attimo rifacendo un po il percorso dal precedente piano che è quello del 2010 12 poi prorogato nel 2013 vediamo come già nel precedente piano in realtà la parte più importante forse la più consistente sicuramente dei progetti e parlo di progetti volutamente rispetto a quel piano si sono concentrati proprio su guadagnare salute quindi sulla promozione di stili di vita salutari e quindi anche su quelli relativi all'attività fisica facendo un focus proprio sull'attività fisica vediamo che il setting più frequentato rispetto al precedente piano era quello della scuola in realtà le proposte si articolavano anche sugli altri setting però la scelta è caduta prevalentemente sul setting scuola e anche la fascia d'età era proprio quella sull'età prescolare e scolare punti di forza e criticità del precedente piano ne accendo qualcuno che ci può essere utile poi per capire il percorso che abbiamo fatto nel piano nuovo sicuramente punti di forza sono stati gli accordi interistituzionali che sono stati messi in campo numerosi importanti il consolidamento di esperienze precedenti quindi tutte le sinergie che sono state create anche un inizio di trasversalità nella programmazione è un volume di iniziative importantissime leggiamo 800 tra progetti e programmi le criticità le criticità che spesso questo piano sia in realtà connotato questi progetti si sono connotati per un carattere di straordinarietà cioè non si sono installati non hanno avuto un adeguato anche un adeguato legame col territorio né un adeguata copertura degli interventi monitoraggio e valutazione su cui poi facciamo un attimo d'attenzione dopo sono stati spesso estemporanei e anche la lotta alle diseguaglianze che un altro punto importante del piano che andiamo a realizzare in questo in questi giorni è stata diciamo non sempre non sempre messa messa in rilievo monitoraggio e valutazione spesso non hanno avuto i piani un solido un solido cruscotto di monitoraggio gli indicatori spesso erano molto eterogenee e derivavano da raccolte di dati ad hoc che non sempre questi andavano invece a strutturare in quelli che sono i principali flussi informativi e quindi anche la misurazione dei risultati spesso non era non era così forte tant'è che anche andare a valutare la mole di cose che sono arrivate dalle varie le regioni spesso non si riesce a mettere a sistema o avere informazioni che siano strutturate e facilmente leggibili il nuovo piano il nuovo piano si è basato su una serie di principi che sono ovviamente quelli della promozione della salute della lotta alle diseguaglianze che un altro punto importante sul quale fortemente abbiamo insistito nel nuovo piano sul potenziamento dei sistemi di sorveglianza che vedremo non è solamente una raccomandazione ma diventa strumento vero di lavoro nel nuovo piano ovviamente la priorizzazione degli interventi basati sull'efficacia sull'interse settorialità ma questo è un discorso già avviato precedente piano e poi delle priorità che sono ovviamente ridurre il carico di malattia un forte investimento sulle giovani generazioni che attraversa trasversalmente gran parte dei macro obiettivi di questo piano e poi o anche in questo caso lo ribadiamo mettere rafforzare l'attenzione sui gruppi fragili questi principi e queste queste priorità sono importanti perché in realtà nel nuovo nella nuova programmazione del sistema paese noi chiediamo e ci si chiede ci siamo sfidati con molta forza a realizzare a mettere in campo questi principi su tutta la programmazione regionale cioè l'impianto della programmazione deve fortemente radicarsi nell'applicazione di tutta una serie di priorità di principi che abbiamo visto qual è diciamo il percorso l'impianto generale del piano ovviamente l'individuazione di 10 macro obiettivi questi 10 macro obiettivi sono vari su tutto il territorio nazionale e sono tutti da mettere da realizzare in tutta la programmazione quindi l'identificazione dei fattori di rischio e dei determinanti l'individuazione di obiettivi centrali se non ricordo male sono circa una sessantina di obiettivi centrali per tutti i 10 macro obiettivi accompagnati dai relativi indicatori indicatori che sono oltre 100 e quindi anche dagli standard e poi un altro aspetto importante è che richiama quello delle azioni centrali cioè ci sarà accanto alla pianificazione regionale ad accompagnamento e supporto della pianificazione regionale anche e ci stiamo lavorando in questi giorni anche una serie di quelle che si chiamano azioni centrali cioè sono di compiti che si di cui si fa carico direttamente il governo centrale diciamo così il ministero della salute ma non solo il ministero ma anche nella sua diciamo missione di fare di fare di promuovere la salute anche attraverso le altre istituzioni quindi con accordi protocolli ma che devono accompagnare e supportare l'attività l'attività sul territorio rafforzandola e anche quindi migliorando nei risultati un altro aspetto importante è che le regioni non non sono chiamate diciamo a identificare uno più o molti diciamo obiettivi centrali su cui diciamo focalizzare la loro attenzione ma devono programmare pianificare per tutti i macro obiettivi e per tutti gli obiettivi centrali e porsi in traguardi per tutti gli indicatori che saranno che sono contenuti nel piano questa è la struttura del piano nazionale della prevenzione da cui poi discende quello dei piani regionali della prevenzione quindi macro obiettivi fattori di rischio le strategie che sono strategie nazionali importanti per questi fattori di rischio obiettivi centrali indicatori che si declinano poi a livello regionale nei relativi obiettivi specifici popolazione target programmi indicatori anche regionali della pianificazione regionale standard regionale questo è l'elenco dei macro obiettivi su cui non torno perché sicuramente la collega cofano ve ne ha ampiamente parlato ieri questo è il macro obiettivo 1 ci sono l'elenco degli obiettivi centrali tra cui uno è quello ovviamente di aumentare l'attività fisica entro solo un minuto in questo macro obiettivo 1 perché mi interessa valorizzare alcuni aspetti che devono essere messi in campo e realizzati nella pianificazione regionale ed è in particolar modo sulle strategie le strategie attraversano tutti i setting cioè siamo chiamati a lavorare su tutti i setting scuola lavoro territorio a lavorare su tutto il percorso della vita quindi promuovendo lavorando su tutto il ciclo di vita lavorare in modo inter settoriale e come vedete è attraversato il tutto dalle sorveglianze che come dicevo prima diventano proprio uno strumento di lavoro perché sono strumenti attraverso il quale noi valuteremo i risultati della nostra della nostra attività e questo vale sia per i fattori di rischio modificabili sia per quelli che chiamiamo fattori di rischio intermedi quindi strategie di comunità strategie basate sull'individuo che invece sono quelle della individuazione precoce prevalentemente del counseling dove siamo in questa fase le regioni stanno lavorando su quello che è la fase iniziale che quella del recepimento del del piano nazionale della prevenzione stanno arrivando tutti gli atti deliberati dalle regioni con cui appunto viene recepito il piano recepimento che però abbiamo inteso non essere solo un recepimento formale ma che già ha una serie tre tre punti che li caratterizzano e che danno già il segno della nuova qualità della pianificazione della pianificazione regionale tra l'altro questo recepimento è un atto non solo formale ma importante perché sarà quello che darà luogo poi nella sua valutazione anche all'aggancio con l'aspetto economico che quello degli obiettivi di piano ovviamente importante dove stiamo dove andiamo che non è una così una accorata esclamazione dove andiamo ma in realtà è dove veramente stiamo andando e anche di corsa stiamo andando a fare la seconda parte del lavoro che è la parte forse più sfidante che abbiamo decise insieme con i colleghi che hanno lavorato le regioni del del nuovo piano che è quella della valutazione che è veramente un aspetto forte innovativo del nuovo piano diciamo che la valutazione e il monitoraggio del piano era già stato introdotto nel precedente ciclo di lavoro con una apposta intesa in questo caso però l'impianto della valutazione è un impianto molto solido molto strutturato e che ci porta anche a individuare degli standard per questi per tutti questi obiettivi per questi indicatori dei valori attesi che come sistema paese ci siamo date ci siamo posti rispetto al 2018 e rispetto alle quali le regioni sono chiamate a programmare questo lavoro di che ha portato a questo documento che a brevissimo speriamo sia approvato in conferenza stato regioni dovrebbe andare proprio nei prossimi giorni e si è svolto con gli stessi diciamo attori che ci hanno accompagnato nella precedente attività di lavoro è un documento che definisce quindi gli obiettivi della valutazione che sono ovviamente misurare l'impatto delle attività che abbiamo individuato col piano in termini di salute i requisiti per la valutazione quelli che sono i criteri e l'oggetto della valutazione un altro aspetto molto importante che quello della certificazione voi come sapete i piani regionali della prevenzione il piano nazionale della prevenzione è una parte dell'adempimento U degli adempimenti LEA quindi la struttura del piano che ho presentato prima si caratterizza e proprio perché avevamo in mente questo percorso complessivo che avrebbe portato poi alla valutazione di tutte le strategie tutte le attività fatte si caratterizza proprio per essere funzionale al processo di valutazione quindi rispetto a obiettivi centrali indicatori centrali standard è stato costruito un impianto che ci porta a individuare una definizione operativa che spesso si traduce anche proprio una formula per valorizzare il valore atteso al 2018 un lavoro che è quello del valore baseline per tutti gli indicatori ovviamente quelli misurabili quelli quantificabili sono stati fatti un lavoro di andare a vedere i valori baseline più vicino a livello nazionale e rispetto a quello andare a individuare insieme lavorando quello che poteva essere un valore atteso attendibile un valore atteso ragionevole ma anche sfidante perché ci siamo posti anche l'obiettivo non solo di mantenere un trend positivo se c'era o di diciamo non peggiorare un trend che diciamo era stabile ma ci siamo invece posti l'obiettivo di migliorare rispetto a quello che il valore baseline una percentuale una certa percentuale per i casi in cui era possibile farlo appunto per valori quantitativi al 2018 quindi per tutti tutti gli obiettivi e tutti i relativi indicatori compreso quelli ovviamente che sono attinenti all'attività fisica noi ci siamo posti un preciso obiettivo rispetto al quale andremo a valutarci nel 2018 o meglio nel 2019 quando si saranno consolidati tutti i dati e andare a vedere se questi obiettivi sono stati raggiunti se non lo sono stati quali sono state criticità quali sono stati i punti diciamo meno forti non ci hanno consentito ma insomma una valutazione molto serena ma molto importante per riprogrammare anche il nuovo lavoro e poi la fonte dei dati quindi chiaramente non tutti gli obiettivi sono obiettivi quantitativi tutti gli indicatori sono indicatori quantitativi alcuni invece sono indicatori che si traducono in attività che devono essere messe in campo rispetto a questo ugualmente lo standard è che il cento per cento delle regioni vada a mettere in campo le attività che sono individuate e poi la fonte dei dati con un altro aspetto ovviamente importantissimo quindi si valorizza tutto il patrimonio delle sorveglianze che abbiamo perché rispetto a queste le regioni saranno chiamate a individuare lo standard a livello regionale rispetto a queste faremo la misurazione quindi e non solo ripeto un valorizzare in maniera così importante ma poi non non fattiva il patrimonio di sorveglianza ma è proprio farle diventare un vero strumento vero strumento di lavoro quindi ritorniamo un attimo su quello che è stato l'argomento di questi due giorni qua ho riassunto solamente brevemente accennato solamente a una parte in cui l'attività fisica viene valorizzata nel piano in realtà viene valorizzata anche per quello che riguarda gli incidenti domestici dove diventa un'importante strategia nella prevenzione incidenti domestici e quindi anche rispetto all'attività fisica rispetto a questi indicatori noi ci siamo posti degli obiettivi e delle dei valori attesi sfidanti per il 2019 quindi realizzare una attenta importante attività di pianificazione nelle regioni è una sfida importante che ci siamo posti come paese complicata sicuramente che però è un valore veramente di questo di questo documento unico perché non sono molti documenti nazionali che sono così fortemente strutturati nella valutazione nella misurazione dell'efficacia di quello che andiamo a fare che è il punto veramente qualificante. Vi ringrazio dell'attenzione sono stata breve come promessa.